mette le erbe, ok, ma l'integrale, tu ne puoi mangiare tutte le viderite non lo faccio, non lo faccio non lo faccio, non lo faccio non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio tutto interesse, tutto interesse tutto, tutto, già eh, ma è senza se va Feliciano, ti l'ho mandato il video, no? si può marcher, è marcher ma, Feliciano, abbiamo fatto l'investigazione per cosa, ah tu non l'hai parlato? non lo faccio, non lo faccio non lo faccio, non lo faccio è contenere, è contenere, non lo faccio non le pochillare, non lo faccio, non le pochillare non le pochillare e' questo che avete? si, abbiamo un pochillare non lo faccio, non lo faccio ma la mia perchè noi potremmo acquistare se avete ma non in quantità no, non in quantità no, non in quantità no, non in quantità prendi, prendi questo perchè lui sempre no, 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 noi possiamo trovare per portare qui, lui può comprare chiedere a lui, perchè lui posso chiamare? perchè lui sempre perchè lui non fa questo gioco noi possiamo trovare a mare si, si, c'è anche in Congo anche lì perchè lì anche per le mucchia ci sono di lì anche cavalli ma non trasporto questo caro lui ha detto che lo puoi comprare da solo? si, ma questo caro di trasporto non lo trovo tutto che lo manda giù e basta va bene, ma questo fa vendere bianco non lo trovo non lo trovo non lo trovo ma questo è un po' non lo trovo che ho avuto la farina di riazza perchè ha molto proteine non lo trovo non lo trovo e so Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.